Questo è sempre stato. Prima noi, diciamo, i paesi, i paesi, specialmente questi, Roccamoricci, 50 anni fa, 60 anni fa, non guardiamo, tu guarda 50 anni fa, 70 anni fa, tagliamo la lenza e ci facciamo. Oh! Sì! Sì, iniziare a portare qui no alex tiene un cuore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.